La comunità musulmana di Scicli raccoglie i fondi per aprire una moschea e Forza Nuova risponde con un no categorico, dicendosi pronta a scendere in piazza per manifestare. La preoccupazione del movimento di estrema destra nasce da un cartello esposto nel luogo di culto di Via Bixio, nel quale, secondo quanto dichiara la rappresentante provinciale Maria Borgia, si palesa la volontà di acquistare una moschea con donazioni anche provenienti dall'estero. Io le dico solo, se avessimo avuto fonti esterne non saremmo qui a questo momento. Avremmo comprato la moschea da quanto tempo? Solo che noi la vogliamo comprare con le nostre forze e con le nostre raccolte qui. Sì, sicuramente manca una moschea, non la chiamiamo una moschea, è un luogo di culto per i musulmani almeno, chiamiamola così, in questo modo. Abbiamo sentito l'esigenza di comprare un luogo, possibilmente perché lo lasceremo anche ai nostri figli, ai nostri prossimi. Basta che tu nomini l'islam e i musulmani spunta fuori, chi ha dei problemi che i musulmani non conoscono. Sicuramente chi non conosce l'islam e i musulmani parla così, perché sicuramente quello che conosce l'islam e i musulmani avrebbe un'idea molto più diversa. Che noi qua ci riuniamo solo per fare la preghiera o probabilmente per studiare il Corano e il Hadith e basta. E qui stiamo convivendo a Scigli da più di 30 anni, la popolazione di Scigli ci conosce, ci lavoriamo, ci mangiamo, ci riuniamo sempre e quindi non c'è niente di strano qua. Per quanto riguarda i fondi per comprare la moschea, non c'è nessuna fonte esterna e quindi tutti i soldi verranno raccolti qui dalla comunità di chi ha voglia o ha poter partecipare. Non sono preoccupato per niente, Scigli è stata e da sempre la città dell'accoglienza, è una città che grazie ai cittadini stranieri porta avanti le proprie aziende, soprattutto quelle agricole. Quindi io ho notizia su cui non ci vedo niente di male, anzi credo che una moschea possa aiutare l'integrazione che a Scigli c'è e che deve continuare ad esserci. Sì, sono favorevole anche perché a prescindere dal culto, dalla provenienza, c'è il diritto e la dignità umana, quindi perché no? Poi c'è anche l'integrazione culturale che secondo me è molto importante. In linea di principio sono favorevole, però se c'è il compenso anche dall'altra parte, perché non mi risulta che l'Islam permetta che in Arabia si costruiscono chiese cattoliche. L'apertura di una moschea è alla base dell'integrazione tra comunità. Ho l'impressione che noi viviamo come due realtà giuste apposte e invece credo che sia fondamentale aprire una moschea per permettere un'apertura e anche per consentire per esempio alle donne islamiche di frequentarla. So che a Scigli ci sono dei luoghi di preghiera, però forse sono troppo piccoli e possono ospitare solo gli uomini. Per esempio avere un luogo di preghiera che permetta anche alle donne di riunirsi e di pregare è importante.